Musica Referendum Costituzionale, quest'oggi a proporre le ragioni del Sud e il comitato dell'Associazione Adesso Catanzaro, idee per la Calabria. Beh, stasera noi prendiamo posizione formalmente esponendoci a favore per quanto riguarda il quesito referendario per molteplici ragioni, ma senza entrare nel dettaglio che potrebbe essere noioso, elenco alcuni punticati. Da tempo che i cittadini italiani, tutti quanti noi, in Camera Caritate, diciamo che questo Parlamento non funziona. Va bene, quindi le leggi che vanno devono andare per essere provate da una Camera a un'altra Camera del Senato, quindi rispetto a una società che è cambiata rispetto al 1948, quando è entrata in vigore alla costruzione, che è importante, che chiaramente non aveva questi tempi, aveva tempi lunghi. Va bene, quindi il numero praticamente di parlamentari che viene ridotto mi riferisco al Senato, quindi è già una grande cosa. Una Camera, quindi il Parlamento che legifera e quindi dà risposte immediate, consente approvazione della legge in maniera rapida, eliminazione di tutta una serie di organismi che sono ormai pletorici e non hanno più senso di esistere, perché allora erano concepiti per un certo modo. Va bene adesso e dopo di che, praticamente, anche l'eliminazione di tutta una serie di conflitti legislativi tra Regione e Stato, quindi va a eliminare tutta una serie di contenzioni che hanno dei costi notevoli. Un risparmio economico è anche un risparmio di tempo, perché, diciamo così, dal punto di vista di quello che è l'organizzazione, impegnarsi pure a confliggere con lo Stato, perché quella norma o quella materia di competenza mia o tu, insomma, comporta pure una grande perdita di tempo per tutti quanti. e le regioni che diventano non più enti di gestione, ma enti di programmazione.